Posso fare una domanda? Si Ho capito come è stato adesso Eh, come è stato Se adesso è una bella gente Non lo pare No, no, no E' buona questa Questa è buona Eh, può essere buona Però, se ne hanno meno problemi Quale? Se ne hanno meno problemi Il stomaco Non sapevo se vuole tenere buona male Ah, c'è un buco Eh, c'è un buco Da direi renderemo Ma non ci mangierà niente Non si poteva stare Nel indagino qua Perché se c'era da inna O meno C'era fregata E voi vedi che c'era Se c'era parte inna con una vena No, cosa c'era? C'era meno un buco c'era Quando è arrivata inna Vedi se c'era tosta Non è f***o E voi vedi che c'era da inna con un buco c'era L'ordine che faccia C'era più o meno A parte inna con un fraccia A parte inna con un buco c'era Prima C'era da Allah Ci sono A parte inna con un buco c'era Ah, una parte inna con un buco c'era Ma vedi che cosa invece la vena E hating sono fatti tutti noi hai fatto tutti era fatti tutti non era fatti tutti non era fatti tutti non è ancora fatti se è fatti tutti dai fatti non è fatti no la fatti è fatti ahahah perchè è curto a giù si si è quello non scherzo si è grosso 2.24 sono avuto 6 accelle solamente ma io non posso dare un accelle 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 no no dopo non c'è mai io no no 100 m no 100 m solo 20 m non l'avevo fatto e ne ho passato solo 20 m e allora l'altro adesso e te pure che ne ho passato quant'è a giù? ma che è? si la branca su ma questo è la branca grossa la branca grossa la branca è una germina ma cosa ha fatto? e tu mi fai più la branca non si fai più ma pure di su meno 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 è una germina non lo c'è ma qui mi ha detto tu mi metti dm 2m e vado su un po' un po' un po' da quale per noi va bene questa quanto è grosso? quanto è grosso? quanto è grosso? questo è proprio un misero che ne fai questo allo? oi per non ci pigliare non ci pigliare la casa pure non ci pigliare non ci pigliare si pigliare la casa si si e quanti di fronte? 80 70 quanti di fronte? 2,50 2,50 2,50 2,50 2,56 qua saranno 80 cm e 2,50 2,50 2,56 quanti è? quanti è piacere? 80 di fronte 80 di fronte è un fronte di diametro il fronte la sezione il diametro qua è 80 2,40 di circonferenza che è la terza parte un po' che parola 3,14 ah si ce ne è andato pure pure l'8 medie vista quanto è piacere? no hai stai ti 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 come hanno fatto? ci prendono poco perchè ci prendono? si cadono poco a 4 metri che la tirano sai come la tirano? si si dice segnare un caporato guardate l'acquina fa non muovere non muovere non muovere il papà si è tornata 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 scusate dopo devo parlare tutto quello non 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 Grazie per la visione Grazie per la visione